Ciao ragazze e benvenute sul canale. Allora oggi volevo parlarvi di Pura Vida Bio e quindi in particolare di questa linea detox. Sapete che negli ultimi anni il tema dell'inquinamento è molto sentito visto che le città sono sempre più inquinate e a risentirne non è solo la nostra salute ma anche la nostra pelle perché purtroppo va ad assorbire quelle che sono le tossine presenti nell'aria che poi ci causano i pori dilatati, il colorito spento e quindi come si può in un certo senso cercare di arginare in questo questo problema e quindi come limitare i danni causati da questo problema. Quindi Pura Vida ha lanciato questa linea detox che va appunto a detossinare la nostra pelle. La linea è composta da tre prodotti quindi un siero, una crema e poi questa è una maschera in diciamo in crema e quindi è un campioncino però nella linea è una maschera in tessuto. Allora quindi questo trattamento detossinante nasce come appunto vi fa capire il nome per detossinare la nostra pelle per riequilibrare e ripristinare tutte le sue funzioni ristabilendo quello che sono i meccanismi di protezione naturale della nostra epidermide. Questa linea ha tre azioni benefiche perché ha un'azione antipollution quindi significa che ci protegge dallo smog con un effetto antiossidante e un'azione depurativa perché va ad eliminare le tossine dall'organismo e mantiene una corretta microflora cutanea accelerando il processo di detossinazione e poi un'azione riequilibrante perché riequilibra la barriera idrolipidica e quindi ci difende dallo stress ossidativo. Questo trattamento onestamente è anche efficace per limitare quelli che sono gli effetti dell'uso prolungato della mascherina visto il periodo insomma che stiamo vivendo. Come sono formulati questi prodotti? La maggior parte dei cosmetici di pura vita bio comunque all'interno contengono del licopene che è una molecola altamente antiossidante che viene estratta dalla buccia di pomodoro dei coltivatori di alcenero. Vedete c'è anche scritto sulla confezione che praticamente alcenero è un marchio di oltre mille agricoltori biologici che fornisce materie prime come base dei prodotti di pura vita bio. La sua azione antipollution protegge e previene dai radicali liberi dai danni causati dall'inquinamento. Oltre al licopene troviamo comunque l'essenziale del estratto dalla radice di curcuma che fin dall'antichità voglio dire era utilizzato per andare a purificare la pelle. Poi inoltre pura vita ci dice che all'interno ci sono dei centrifugati di frutta che hanno un'azione vitaminizzante e che vanno a depurare e illuminare la pelle. C'è anche un estratto di linfa di vite proveniente dalle vigne del Malvasia che probabilmente alcune conosceranno per il vino e che è un prezioso arreato per andare a mantenere una corretta microflora cutanea. Quindi ci rende fondamentalmente la pelle più sana. Entrando nel dettaglio, allora vi parlo del siero. Il siero detox è formulato come vi dicevo prima dalla linfa di vite di Malvasia ricca di sali minerali, di amminoacidi, di zuccheri, di polifenoli che come vi avevo già accennato poco fa aiuta ad equilibrare la microflora cutanea ed è arricchito anche con olio essenziale di curcuma che è un potente antiossidante che aiuta a migliorare anche la luminosità della pelle, l'estratto di tè verde e poi questi centrifugati di mela, limone, uva e melograno che apportano appunto delle vitamine. La crema detox invece contiene turmerone che è un olio essenziale estratto dalla radice di curcuma, anche questo è un potente antiossidante insieme allo zafferano. Poi abbiamo il licopene e il mirto che è un antiossidante sempre ricco di biofloronoidi ed è anche un sebo regolatore. La salvia che è un'azione antisettica e detossinante e poi troviamo anche qui i centrifugati di frutta di mela, lime e kiwi. Anche la carota che contiene beta carotene e provitamina A e il sorbitolo che è uno zucchero che aiuta la corretta umidità sullo strato corneo garantendo l'idratazione anche in un clima particolarmente per esempio secco. Poi abbiamo la glicina se non sbaglio aminoacido che è un precursore di proteine, il dipantenolo che va a lenire le pelli intossicate e infine la vitamina E. La maschera invece contiene acido ieluronico e svolge fondamentalmente un'azione idratante ed illuminante. Allora, onestamente per come si usa? Questo è un trattamento che per essere efficace sono necessari 40 giorni di applicazione costante, altrimenti inutile utilizzarla. Tra l'altro consiglio magari di ripetere questo trattamento quattro volte l'anno, quindi possibilmente ogni cambio di stagione. In realtà non serve che comprate tutta la linea completa, per un trattamento detossinante vi basta anche solo comprare il siero, perché il siero si può utilizzare comunque tutto l'anno, aiuta a compattare la pelle, ad idratarla, però la crema è quella che è più completa, ecco diciamo così, quindi solo la crema da utilizzare magari la sera vi aiuta a svolgere questo trattamento detossinante, anche perché tra l'altro non sono prodotti economici e se non sbaglio il siero costa 35 e la crema qualcosina in più. La maschera potete anche utilizzarla diciamo al di fuori del trattamento, però ripeto, vi basta solo la crema che aiuta a ristabilire gli equilibri della vostra pelle. Se avete una pelle matura o comunque anche una pelle acneica potete utilizzare il siero al mattino e poi la crema la sera, mentre se avete una pelle giovane potete utilizzare sia il siero che la crema mattina e sera indifferentemente e poi magari una volta a settimana fate una maschera. Allora questo è un trattamento che consiglio, allora come vi ho detto prima se volete provare vi consiglio di partire dalla crema senza magari spendere troppi soldi per un trattamento completo, però è un trattamento che mi sento di consigliare a chi ha comunque una pelle diciamo così intossicata, altrimenti non ne vedrete i benefici e magari vi pare tra virgolette di aver buttato soldi. Quindi valutate voi insomma in base alla vostra pelle. Niente, spero che questa così recensione rapida vi sia stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!